Ciao a tutti e bentornati su Fanat Coco Reloaded o benvenuti a Secondo dei Casi oggi noi siamo abituati a sentire la musica in cuffia pressoché dappertutto insomma con il computer, con i telefoni e anche con il televisore perché no ma la cuffia, la prima cuffia audio, quando è uscita, quando è stata commercializzata quando è stata inventata la prima cuffia audio beh vi faccio un piccolo spoiler, risale addirittura a 1910 quindi linea al video per saperne qualcosa di più ciao alla prossima! le cuffie sono un'invenzione molto meno contemporanea di quanto si possa immaginare fra il 1890 e il 1930 fu inventato l'elettrofone un servizio del tutto innovativo ideato in Gran Bretagna che prevedeva un abbonamento 5 sterline all'anno tramite cui si potevano ascoltare spettacoli che avvenivano nei teatri londinesi tramite uno speciale telefono negli stessi anni l'ingegnere francese Ernest Mercadier brevettò le future cuffie in-air inventate per essere usate dai telefonisti che necessitavano di auricolari che bloccassero il rumore esterno le cuffie audio nascono intorno al 1910 per merito di Nathaniel Baldwin ingegnere e insegnante di fisica il quale cercava un sistema in grado di amplificare la voce di un oratore durante una funzione religiosa da qui la nascita di un primo prototipo di amplificatore ad aria compressa che venne perfezionato realizzando quello che oggi comunemente definiamo cuffie solo nel 1937 si inizia a vedere un utilizzo privato per le cuffie grazie all'accio del modello DT48 realizzato dalla tedesca Bayer Dynamik Nel 1947 AKG creò il suo modello le K120S il giusto mix di qualità sonora, tecnologia e un pizzico di marketing Nel 1958 John Coase inventò le prime cuffie adibite soltanto all'ascolto della musica fra il 1965 e il 1975 arrivano nel mercato Philips e Onkyo prodotti validi dal punto di vista sia del design che della tecnologia una bella spinta all'uso delle cuffie fu negli anni 70 con la Sony che uscì nel mercato con il Walkman il primo giugno 1979 per la prima volta le cuffie uscirono dalle abitazioni entrando di fatto nell'era della portabilità la qualità ne risentì ma grazie al Walkman era finalmente possibile ascoltare la musica in libertà altra bella spinta dell'uso delle cuffie si ha con il lancio sul mercato di iPod e dei moderni smartphone con la produzione di auricolari leggeri e di dimensioni molto ridotte ma questa operazione costò la scomparsa del Walkman grazie a tutti della visione al prossimo video ciao a tutti